Per il terzo anno consecutivo, con il tempo di 27 primi e 26 secondi, Giorgio Mario Nigro, atleta di Capaccio che corre per la Camaldolese, si è aggiudicata la 25esima edizione della Corri Roccadaspide, gara di 9 km svoltasi a Roccadaspide ed organizzata dall'Atletica Sporting Calore, valida quale ottava tappa del circuito Fidal Cilento di Corsa. Podio maschile interamente della Camaldolese grazie a Daniele Caprio al secondo posto con il tempo di 29 minuti e 5 secondi e Carmine Santoriello in terza posizione con il tempo di 29 primi e 14 secondi. Vincere però in occasione della 25esima edizione ha sicuramente un sapore più importante. Eh sì, diciamo perché anche quest'anno è il terzo anno consecutivo che la vingo e quest'anno sto finendo anche tutto il circuito del Cilento. Spero di arrivare fino alla fine, di farlo tutto, comunque penso di vincere il circuito. Ecco, a proposito di questo mancano davvero pochissime tappe, sei il favorito insomma, l'uomo da battere. Eh sì, se non sbaglio tre tappe ed è finito, penso che ce la faccio. Se riesco a concludere lo finisco e cerco di vincere. Tra le donne invece è trionfato la giovanissima Erika Sorrentino della Prosesto Atletica che ha fissato anche il nuovo record femminile della Corri Rocca d'Aspide fermando il crono sui 33 primi e 43 secondi. Alle sue spalle la regina del circuito Cilento di Corsa e padrona di casa Rosemary Antico dell'Atletica Sport in Calore con il tempo di 35 minuti e 15 secondi. Terzo gradino del podio per Maria Luisa Langella della Cilento Run in 36 primi e 47 secondi. Sì dai, è stata una bella gara vincente, c'è stata compagnia quasi fino alla fine del percorso. Tra l'altro appunto con Rosemary Antico che è la favorita numero uno per la vittoria del circuito. Sì sì, infatti mi hanno già tutti detto che è una grande atleta, insomma era ben in forma e ce la siamo giocata bene fino a tre quarti del percorso. Qual è stato secondo te il momento decisivo della gara? Eh ho attaccato nel secondo giro nel tratto in discesa, l'ho vista lì un attimo più in difficoltà e ho approfittato della cosa. Nella classifica delle società, primo posto per la Camaldolese è seguita dalla Cilento Run e dalla Sport in Calore. La maglia speciale, ricordo del giovanissimo Sergio Fiorillo che viene assegnata ad ogni tappa del circuito Cilento di Corsa, è andata a Paolo Antico, runner della Sport in Calore, classificatosi al centesimo posto. Nigro, l'Antico e la Cilento Run si confermano saldamente in testa alle rispettive graduatorie del circuito 2018 quando mancano quattro tappe al termine. Oltre 300 i partecipanti alla gara podistica di Rocca d'Aspide, già vestita a festa per la concomitante solennità di Santa Sinforusa.